Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Da oggi iniziamo la nuovissima serie dell'eventi Che si chiama FDB Invasion E' un modpack HQM Quindi significa che ci sono le quest come nella Ulyssicraft Come nelle altre serie che ho portato ultimamente sul canale Relativo al moddato Però siamo in un mondo in cui in realtà non è molto importante la tecnologia Almeno non all'inizio Anzi è una cosa che faremo probabilmente verso la fine di questa serie Ma è tutto in centro sulla sopravvivenza Infatti ci sono mob ostili, mob cattivi, mob stronzi E poi vedrete anche il perché Vi dico soltanto questa piccola cosa così giusto prima di iniziare I mob qui vengono in casa, ti lasciano la TNT e scappano E se tu ti chiudi la porta non sono stupidi Loro riescono comunque a passare Quindi questo è giusto un piccolo spoiler di quello che succederà E vedrete un po' quante bestemmia veramente butterò in off camera per colpa di quei mob In ogni caso dovete iniziare subito la puntata Vi dico lasciare un bel like mi raccomando a condividere il video e iscrivervi al canale E iniziamo la prima puntata dell'FTV Invasion Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessun video Eccoci quindi qui nel mondo Siamo finiti in questo mondo strano Non sappiamo se è la nostra terra Non sappiamo nulla in realtà Abbiamo qui questo kitchen knife Che è un coltello da cucina E abbiamo queste missioni che dobbiamo fare Le prime tre missioni che sono i survivalist Dobbiamo recuperare degli stick Dobbiamo recuperare del wood 16 wood e poi un bel po' di stick E bisogna anche recuperare il beacon Allora vediamo un po' Bisogna utilizzare questo E ci da indietro una di queste cose Io direi che ci conviene prendere la fire access Perché probabilmente servirà E questo non è proprio il massimo come suono Ma va bene Dobbiamo rompere come vedete qui Il legno Ah non vi ho detto una cosa molto molto importante La maggior parte dei blocchi O comunque tutti i blocchi Hanno una cosa particolarmente interessante La fisica Quindi è tutto un po' più strano Un po' più difficile da fare Ma fidatevi Sarà una figata giocare insieme A questo modpack Che è bellissimo Ora stiamo recuperando un po' di questi wood Che serviranno per iniziare la nostra avventura Come vedete lì sopra C'è la balla dello sprint Poi c'è la vita Infatti non ci sono tipo sotto la vita E credo l'altra sia la fame Quindi tipo utilizzeremo quelli per fare cose Vedete qua Vedete si butta per terra tipo questa cosa Potete recuperare tranquillamente Credo di poter recuperare anche degli stick da qui dentro Come è giusto fare in minecraft normale E questa ascia comunque mi sembra una buona buona cosa Devo recuperare un sacco di stick Quindi non so se ce la farò subito subito A recuperarne tanti Però insomma ci proviamo Perché mi servirebbero davvero Un quantitativo straordinario 32 sono tanti Però questo mi sembra un buon metodo Ah ovviamente Se vedete che adesso lagga un pochetto Perché ho appena generato il mondo Quindi è normale che Abbia quella piccola particolarità di lag Ricordatemi sempre che Siamo nell'1.10 E l'1.10 è ottimizzata a schifo Abbastanza schifo Per quanto riguarda minecraft moddato Quindi ci dobbiamo un po' accontentare di questa lag A meno per le prime puntate Poi vedremo come fare Abbiamo preso delle fibre Va bene Mi sembra una buona idea Rompiamo comunque anche un po' di questa roba Così possiamo recuperare anche un po' di legno Che servirà invece per fare L'altra missione E poi vedremo come utilizzare questo legno Perché Ve vi faccio vedere una cosa Guardate Possiamo farci il chopping block Ma non possiamo farci il legno lavorato Poi vi spiego Come si fa il legno lavorato Perché È tutto Molto più complicato Come vi dicevo E non è per nulla Quello che voi vi aspettate Uh Cos'è una trappola per orsi questa? Mi sa tanto di sì Non me lo dice cos'è Vediamo un po' Faccio così Ah no Oddio Che cosa fa esattamente? Posso romperlo? Non credo Però Non è che tipo È un segnale Di qualsiasi tipo Mi sembra completamente strano Comunque questa È una delle cose Immaginate Vabbè Magari buttano qualcosa Spero che non sia una bomba nucleare Sarebbe una buona idea Però vabbè Continua ancora a suonare Vabbè Non lo sappiamo Comunque Rompiamo questo legno ragazzi Come state vedendo E giustamente questa roba Forse non ha proprio Non tutti i blocchi Forse hanno Questa cosa che vi dicevo prima Del Della Aia Dell'essere stabile Ok sì Alcuni blocchi lo sono Come vedete E la cosa brutta La vita Non si può recuperare Stando fermi Perché sennò sarebbe stato Troppo facile Ma la vita si recupera In maniera abbastanza strana Che per la maggior parte Dovrebbe essere in realtà Tipo Recuperare roba Abbiamo della caccia Leaves Oh mio dio Questa forse è meglio buttarsi Perché Non mi sembra una buona idea E come vi dicevo Quindi la vita non si recupera Così facilmente Ma dovete fare Un casino di cose Ora mi sembra ancora Tre blocchi Forse mi conviene rompere Questi alberi piccolini Qua sotto E stare un pochetto Lontano Dalle foglie Perché insomma Sono parecchie pericolose Abbiamo operato quindi Questi 16 pezzi Perfetto E abbiamo completato Le prime missioni Possiamo mangiare Se vogliamo Però Credo non ci convenga Possiamo mangiare? No mi sa che solo Salutulation Si può fare Va bene E quindi abbiamo portato Questa missione Abbiamo preso Questa roba qui Che ci da Altre cose E un'accia Un'accetta Crude Va benissimo Ora mi dice di craftarmi Una chest E ok Dice che una crafting table Non si può craftare Va bene E quindi La posso trovare Soltanto nel mondo Wow Cioè mi sta dicendo Aspetta che Devo andare in giro A trovare Le crafting table Non ci credo Ragazzi Qui ci sono Altre queste Trappole O queste cose strane Non so bene Cosa siano Sinceramente Forse spaventano i mob Non lo so Questa cos'è Creeper cookies Ah sono proprio dei cookies Possiamo mangiare anche questi Se vogliamo E comunque abbiamo finito Quindi queste altre missioni Però Ora che ci penso Non mi ha detto Come si craftano I crafting table Quindi Bella merda Bella cosa Ok Però possiamo farci Sta roba Che ci dice Che dobbiamo Fare un chopping Ok Devo utilizzare L'ascia E il tasto sinistro Vabbè Allora lo facciamo Mettiamoci magari In un punto in cui Magari c'è meno gente Anche se per ora Non c'è ancora nessuno Mi sembra Un posto alquanto strano Comunque vi dicevo Basta prendere Questo coso qua A metterlo un attimo Qua sotto In questa maniera Metterci sopra Uno di questo E poi Con il tasto sinistro Con l'ascia Dovremmo riuscire A romperlo Vedete Boom Abbiamo rotto questa cosa E quindi Siamo riusciti In realtà A recuperare Questa roba qui Che è la Rickety Crafting table E possiamo prenderci Una di queste cose Oh mio dio Possiamo prenderci Livestock crate Che ce lo portano a noi Il earth of gold E il cuore Direi che Visto che non siamo Comunque In nessun modo In hardcore Prendere questa roba Che mi sembra più buona Ok Quindi mi sta dicendo Che se io adesso Che ne so Richiedo Tramite questo Il livestock Lui me lo porta in giro Credo di sì In realtà Vediamo un po' Questa cosa Perché mi sembra Alquanto strana Però voglio scoprirlo In te la possiamo richiedere Tipo Che arrivi da noi Del cibo Non si sa che cosa Esattamente Però vabbè Lo vediamo Guardate Ce lo porta No Non ci credo Finisce in mare No Vabbè Troppo bella Come cosa ragazzi C'è solo questo Se mi sa Milioni di like E dal costo Ha fatto un lavoro Fantastico Per questo Modpack Quindi Vedremo assieme Ragazzi Non preoccupatevi Ok Abbiamo preparato Quindi questa roba Possiamo prenderci questo E dobbiamo romperlo Credo Ovviamente abbiamo anche Tipo vedete qua Il fatto dell'acqua Credo di dover rompere Questo coso E prendere ciò Che c'è dentro Ah Ok Può essere anche un cavallo E va bene Però senti cavallo Aia Oddio Aspetta Senti cavallo Parliamone Da persona matura A persona Cavallosa Dovresti morire Ok Non è stato un'ottima idea Perché mi ha dato cose di meglio Invece mi ha dato Del cavallo Vabbè Insomma non è stato proprio L'ideale Per quello che mi aspettavo Di trovare Ok 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 Nessun problema Andiamo a recuperare Un po' di dirt Noi ci siamo Una palla Sarebbe un'ottima idea E devi fare attenzione Alla notte Perché la notte È pericolosissima Ragazzi È piena di brutte cose E le cose Accadono In maniera brutta 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 Recuperiamo quindi Per il momento Un po' di questa dirt Per iniziare A recuperare un po' di oggetti Vediamo un po' Dove riusciamo a trovarli Siamo per ora A 4 Qui abbiamo Un po' di blocchi Recuperiamo Un'e 16 in totale Uh Cos'è quello Oddio Una cavalletta Credo si possa Mangiare Oh mio Dio Possiamo mangiare Le cavallette Che cosa Orrida da fare Però che cosa Figa Anche da vedere E abbiamo trovato Anche altre cose Tipo Ah si Giustamente Il cibo Vabbè si Possiamo farci Cibo di ogni tipo Questo è il cibo Della 1.11 In realtà Non so perché C'è 1.10 Ma ok Da forse è 1.10 Non me lo ricordo Comunque abbiamo Comparato un'altra missione Relativa a questa cosa Possiamo prenderci Qualsie tipologia Di roba Anzi abbiamo Già recuperato Tutta questa cosa E adesso ci chiede Di fare La can open E dobbiamo aprire Tipo le can Quindi possiamo Recuperare anche le can Credo in giro Can open Come si fa Vediamo un po' Ci sarà sicuramente In qualche maniera Un modo di farlo Eccolo qua Il nostro can open Si fa con le tin nugget Che però mi sa Che bisogna recuperarle In giro Allora Crafty table Come già ho detto C'ha una certa durabilità Penso di potermi fare Un piccone normale Di cobblestone Si fa tranquillamente La pumps Che si Che dovrebbe essere la pumps Ok E direi Un attimo Di spostarci sopra E di rompere poi Questi blocchi Oddio Vedete Non è per niente facile Quindi non possiamo Piazzare i blocchi Perché alcuni Se ne vanno Ma dai Non possiamo farci Un pillard Di blocchi Dai Come faccio Vabbè Ok facciamo così Per il momento Rompiamo questo Vedete lì Ci sono dei mob Bene Quelli sono pericolosi Accampiamoci qui Per la notte Non dovrebbe succedere Nulla di troppo pericoloso Almeno Io spero Che non succeda Nulla di pericoloso Piazziamo questa Crafty table Facciamoci una chest Per iniziare Eccola con la chest La Crafty table Dovrebbe durare Per un po' Credo non Si veda quando si rompe No in realtà Perché Insomma Non vorrei che si rompesse E abbiamo completato questa cosa Prendiamo Il medical crate Per il momento Va bene Abbiamo da fare Il wooden shield Per farci Le cose fighe Ok Bene 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 Possiamo In realtà mettere questo Mettere questa qua Possiamo in realtà romperla Con questo No Bisogna farsi forza Un piccone di legno Però forse mi servirà Vedere la cobblestone Devo scendere dopo Vabbè Facciamoci un piccone di cobblestone Anzi di wood Prima Perfetto Lasciamo questa roba qui dentro Così per essere sicuri Al certo per cento Che nulla Venga buttato via Da chissà che cosa Va bene In questa maniera E andiamo un attimo A rompere della cobblestone Allora Nulla di troppo pericoloso Per il momento Ok Sì Qualche mob c'è Ma non mi ha visto Io lo spero almeno Qui abbiamo qualcosa di strano Cos'è la clay Oddio È tipo E non è nemmeno la clay È qualcosa Ah le rocce Oddio Non è che servono per fare La cobblestone Ah non Può fare la gravel Ok perfetto E vediamo un attimo Di rompere Questa cobblestone Che però Mi sa che non si può rompere Ah no Si rompe Si rompe Però ci dà la roccia Oddio Oddio ragazzi Vedete Vedete che sta avvicinando Un mob Sta avvicinando Un mob A distanza Oddio Senti Ok Ucciso Ucciso Però Era pericolosissimo Ragazzi Ora si è tenuto Abbastanza distante Ma È qualcosa di pericoloso Al cento per cento E però abbiamo questa roba Credo che facendo così Facciamo La cobblestone No Facciamo la cobblestone Come si fa la cobblestone Dio santo Ci sarà un modo Ah la coca Con il prezzo di clay Dove lo trovo la clay ragazzi Oddio Tu dove vieni Non ci credo Ragazzi Questa gente Arriva dal nulla Mi serve La clay Mi serve Come dobbiamo La trovo la clay Non ci c'è un modo Di trovare la clay In qualche maniera Oh mio dio È caduto Mezzo albero è caduto Va bene È pericolosissimo Vediamo un po' La clay La clay La clay Come si crafta Credo Si recuperi Stanto dentro all'acqua Quindi dobbiamo Forza Esplorare l'acqua Prenotte Maledizione Ok vediamo le prossime missioni Magari cosa ci richiedono Di fare questo shield Di legno Vediamo un po' Shield Eccolo qua Si fa con Il legno qualsiasi E uno stick Dovremmo riuscire Perché abbiamo un po' Di legno E abbiamo anche Uno stick tranquillo Perfetto E quindi Vediamo un attimo Di farci uno di questo No non questo Questo qui Scusatemi Ok mi manca sempre Un pezzo di legno Cavolo Vabbè dovrei riuscire A farlo con Uno di questo Tranquilamente Quindi facciamo così Abbiamo questo Shield Wood Però non so Se si può equipaggiare Si si può equipaggiare Perfetto Quindi funziona Come un normalissimo Coso E abbiamo Completato questa missione Che ci ha dato Uno shield Un pochetto più potente Non so in realtà Quale sia il migliore Di questo Però insomma Ci teniamo questo Scudo di minecraft Vanilla Che forse Risulta un pochetto Più utile Cos'è c'è qua La clay ball Ok quindi bisogna Recuperare Recuperare la clay Vedete anche Abbiamo un livello Lì Ed è tutto Più strano Però non vedo mob Aspettiamo che faccia Al giorno Anche se Non c'è un timing Di tempo Quindi peccato Perché sarebbe stata Una buona idea E vediamo un po' Abbiamo da fare un po' Di cose La healing Save Ok Possiamo curarci Anche questa roba Come dicevo Perché non esiste Nessun modo La possibilità di curarsi E si fa con Due pezzettini Di qualsiasi cosa E un sapling Azz E io in realtà Dovrei avere qui Un po' di questa roba Quindi possiamo Optare per fare In questa maniera Guardate Possiamo farci Queste cose qua Bene E con del legno Cosa che possiamo fare Perché in realtà Abbiamo sempre Questa cosa qua Possiamo pensare Anche di Sistemarci meglio Vediamo un attimo Di rompere questo legno Perfetto Abbiamo un po' di legno Solo due Comunque sono davvero Pochissimi ragazzi Me ne servono molti Molti di più Va bene Iniziamo per ora così Credo si possa fare così Perfetto E un sapling Ce l'abbiamo già qua Arriva un mob Arriva un mob ragazzi Da dietro Ok Il salvo Oddio Aia No 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 Aia No ragazzi Non riuscivo a colpirlo Non riuscivo a colpirlo Cavolo 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 Vedete qua abbiamo Un nostro salvo Possiamo mangiarlo Come vedete È una zuppa Che ci dà Giusto un pochino di vita Ma nemmeno troppo Perché non possiamo ucciderlo Ok Ci possiamo ucciderlo Tipo non funzionava prima Porca vacca C'è levato un casino Di HP C'è levato E Dobbiamo vedere come recuperare HP Quindi adesso Guardate mangiamo anche un po' di toast Ok Il toast dà giusto un pochino di HP Però non è che sia Così tanto utile E Dobbiamo Approfittare di utilizzare Ancora questi altri sapling Per fare Altre cose Ci siamo Un casino Di questi oggetti Le carote non hanno È vero La possibilità di essere trasformate Ok Però questi qua Si invece Facciamoci un'altra cosa Per vivere Per non morire Possibilmente Questo è un sapling Eccolo qua Eding salve Vabbè Giustante Non è un problema Ok Mi ha recuperato un po' di vita Credo Giusto un pochino Ah no Vedete non ha funzionato Ok Vedete ci Tipo consuma un pochetto Ma ci ha dato un po' di vita Che non fa niente male Ok Allora per il momento Io vi saluto Questa è stata una puntata Parlo così Perché sono stupido E penso che i mob Possano ascoltarmi Però sarebbe una bella idea Anche se Successe una cosa del genere Oddio non proprio bella Fransoma l'idea È carinissima Abbiamo recuperato Un po' di roba Che sono in sostanza Cose per poterci curare Come vedete abbiamo la possibilità Di mettere questa cosa Per tipo curarci In questa maniera Credo non si possa utilizzare Ok si si può fare Vedete ci curiamo Di un tot Con questo coso Che dovrebbe essere un cerotto Che si crafta con Dei carpet E un po' di altra roba E però non ci curiamo Più di così Quindi mi sa che c'è un limite Per il curarsi Poi abbiamo ovviamente Il melt kit Che comunque non credo sia un'ottima idea E arrivano altri mob Che non possiamo nemmeno colpire Questa cosa è bruttissima No cioè non li possiamo colpire Se non colpiamo con Tipo il colpo Completo Se avrebbe una spada Sapete Una spada in cobblestone Però prima di trovare la clay Dobbiamo per forza aspettare il giorno Ok ragazzi Allora vi dicevo Vi saluto per il momento Noi ci vediamo presto Nel prossimo video Dietitemi sotto nei commenti Cosa ne pensate Da questo è tutto Ciao ciao E al prossimo video Ciao ciao